spettuta. Io mi sento stasera di spezzare una lancia a favore dello spreco e dello scarto e invitarvi a sprecare moltissimo e a scartare tutto quello che vi sembra scartabile. Ci ho pensato mentre parlava il vescovo, io sono vecchia, ho 44 anni, quindi non sono giovane da almeno 10 e ho sempre difeso il mio diritto a venire chiamata adulta, ogni volta che mi presentavano come scrittrice giovane io dicevo ok va bene, tutto è relativo, è vero, però darti del giovane nei contesti professionali è un modo per dire fly down, non alzare troppo la testa, che il tuo momento, la tua fase è ancora l'anticamera, non è ancora il momento in cui tu puoi dire tutto con autorità, con autorevolezza, perché quella appartiene al mondo degli adulti, più ti teniamo fuori dal mondo degli adulti, meno possibilità avrai di essere autorevole, perché nel momento in cui tu chiedi lo spazio dell'autorevolezza io la dovrò cedere, quindi capite che questo meccanismo è un meccanismo conflittuale, è un meccanismo violento, anche quando apparentemente non si traduce in bombe, come negli anni 70, perché la violenza c'era pure, non avevano solo le idee, avevano soprattutto la rabbia e mi sentirei sì di parlare un attimo dello spreco e dello scarto come valori evangelici. Una quercia di 100 anni con l'ombrello ampio in un bosco curato, quindi diradato, può fare in una stagione migliaia di ghiande, cadranno tutte a terra, forse una o due, forse diverranno altre querce, tutte le altre andranno sprecate. Di ogni soffione che vedete in un prato, in ognuno di quelle palline soffici su cui soffiamo ci saranno forse 100 semi, forse uno, due di loro diverranno un'altra margherita, gli altri andranno sprecati. Ogni volta che avviene un rapporto sessuale, l'effusione del seme genera milioni di spermatozoi. Se non ci sono impedimenti, forse uno diventa un figlio, nei casi gemellari due, tre, esagerando, ma quanti sono? Pochissimi. Tutti gli altri vanno sprecati. La natura spreca continuamente. Per dare una chance alla vita, mille possibilità di vita vanno disperse. E questo è il modo in cui la garanzia della vita viene mantenuta. Se ci penso, il più sprecone di tutti è stato Dio, che ha effuso talmente tanta grazia, talmente tanta bellezza, non vista, che nessuno mai vedrà, che è lì per se stessa, senza nessuna funzione, nessuna utilità, nessuna produttività. Mi pare che lo spreco sia una delle categorie migliori per definire proprio la dimensione della grazia di Dio. E penso al fatto che sono stata cresciuta nella paura di sprecare, perché eravamo poveri a casa, e lo spreco era un privilegio dei ricchi. Cioè solamente chi ha tanto si può permettere di sprecare.